Sono in aumento le denunce presentate alle forze dell'ordine di Sciacca da vittime di furti in appartamento. Gli ultimi giorni sarebbero stati particolarmente intensi, più o meno indifferenti agli orari dunque sia di giorno che di notte, ignoti malfattori mettono a segno effrazioni di privati domicili con irruzione all'interno di residenze, dentro le quali in quel preciso momento non c'è nessuno. Il risultato è quello immaginabile, cassetti rovesciati, ambienti messi letteralmente a soccuadro alla ricerca di denaro e preziosi che dal punto di vista dei ladri possono essere conservati da qualche parte in casa. Naturalmente sta aumentando la paura tra i cittadini, soprattutto in un momento in cui, grazie anche al periodo festivo, con la gente che è invogliata ad uscire di casa, spesso gli alloggi rimangono incustoditi. Il fenomeno naturalmente non sta riguardando solo il territorio comunale di Sciacca ma anche altre zone della provincia. E dei giorni scorsi il filmato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza di una villetta situata ad Aragona, con i ladri prima entrati nel cortile recintato, poi fuggiti dopo la reazione di una persona che si trovava all'interno della casa. Si parla in queste ore di un'auto, un'utilitaria bianca che girerebbe per la città di Sciacca, che sarebbe occupata da apparentemente innocui componenti di un nucleo familiare, marito, moglie, addirittura tra gli occupanti ci sarebbe anche un bambino. Carabinieri e polizia stanno provando a verificare tutte le segnalazioni che stanno arrivando. Ci sono ricerche in corso lungo il vastissimo perimetro comunale di Sciacca, nella speranza evidentemente di poter sorprendere i ladri, mentre questi si accingono ad entrare all'opera. Uno degli ultimi episodi ci è stato segnalato in Contrada Perriera, in viale Leonardo Sciaccia, dove ignoti si sono introdotti all'interno di uno stabile, raggiungendo uno dei piani più alti, riuscendo ad entrare dentro un appartamento. La sensazione prevalente è che siamo al centro di un'autentica escalation di microcriminalità, che si associa alle truffe, quelle che vedono vittime, soprattutto le persone più anziane, raggirate e derubate. Vicenda quest'ultima che ha visto il Governo organizzare una campagna di sensibilizzazione con un testimone d'eccezione, il noto attore Lino Banfi, siamo in un momento evidentemente delicato e l'aiuto dei cittadini alle forze dell'ordine può essere decisivo.